Benvenuti, temerari spettatori, in un mondo scuro e terrificante al di sotto della superficie dei mari. Preparatevi a immergervi nelle profondità sconosciute, dove le creature marine più spaventose mai registrate sono in agguato. Nel corso dei secoli, gli oceani sono stati la dimora di forme di vita misteriose e spaventose. E noi, intrepidi esploratori, abbiamo testimoniato l'inimmaginabile. Creature che sfidano la nostra comprensione e scatenano la paura nel nostro intimo. Grazie ai progressi della tecnologia, coraggiosi ricercatori e audaci scienziati si sono avventurati nelle acque oscure e sconosciute, portando alla luce queste creature leggendarie. Le loro scoperte ci hanno lasciato attoniti e meravigliati per la diversità e l'eccentricità di questi esseri marini. Tra le creature più spaventose mai documentate, troviamo l'enigmatico pesce drago, con le sue mascelle piene di denti affilati e un aspetto che sembra uscito dai nostri più oscuri incubi. C'è anche il calamaro gigante, un'entità colossale che sfida ogni concetto di dimensione e potere. E non possiamo dimenticare gli abissi più profondi dell'oceano, dove una miriade di forme di vita bizzarre e spaventose risiede. In questi angoli oscuri, troviamo creature come il pesce abissale, con le sue zanne appuntite e gli occhi luminosi, e lo squalo angelo, con un aspetto veramente demoniaco. Man mano che ci immergiamo sempre più in queste acque sconosciute, la nostra comprensione del mondo marino viene messa alla prova e il nostro coraggio viene messo alla prova. Preparatevi ad essere sbalorditi da uno spettacolo terrificante mentre svegliamo le creature mari in più, spaventose mai registrate in fondo al mare. Preparatevi per una spedizione che metterà alla prova tutte le vostre concezioni di ciò che è possibile nelle profondità dell'oceano. Unitevi a noi in questo audace viaggio e scoprite un mondo in cui la paura e la fascinazione si intrecciano. Benvenuti nel fascinante e terrificante regno delle creature marine dell'abisso. Tra le leggende e le mitologie che echeggiano attraverso i secoli, nessuna creatura marina suscita tanto mistero e timore quanto il leviatano. Descritto in diverse culture di tutto il mondo, il leviatano è un'enorme entità che abita le inesplorate profondità dell'oceano. Il leviatano viene spesso raffigurato come una creatura mostruosa, dalle proporzioni titaniche e un aspetto terrificante. In alcune tradizioni è descritto come una creatura con la testa di un mostro marino, spesso dotato di corna affilate, e un corpo allungato coperto da scaglie resistenti. Le sue potenti mascelle, fitte di denti affilati, sono in grado di spezzare navi e imbarcazioni con facilità, suscitando paura e terrore nei cuori dei marinai. Alcuni resoconti suggeriscono anche che il leviatano emetta a fuoco oggetti di acqua bollente, aggiungendo un elemento di distruzione ancora più spaventoso. Oltre alla sua impressionante forma fisica, il leviatano è spesso associato a tempeste violente e vortici insidiosi. Si dice che la sua presenza provochi onde mostruose e correnti marine turbolente, in grado di inghiottire intere imbarcazioni e lanciarle nelle profondità dell'abisso oceanico. Nonostante sia considerata una creatura leggendaria, la ricerca di prove concrete dell'esistenza del leviatano ha affascinato ricercatori ed esploratori temerari. Sono state organizzate spedizioni nelle regioni più remote ed inesplorate degli oceani, nella speranza di svelare i segreti di questa creatura enigmatica. Sebbene non ci siano ancora prove irrefutabili della sua esistenza, sono state fatte alcune scoperte intriganti. Ossa fossili giganti, strutture marine sconosciute e resoconti di avvistamenti misteriosi suggeriscono che potrebbe esserci una verità, nascosta nel cuore delle leggende sul leviatano. Il leviatano rimane quindi un enigma negli annali della criptozoologia marina, una creatura leggendaria che trascende l'immaginazione umana. Mentre continuiamo a esplorare le profondità del mare, è possibile che un giorno ci imbatteremo in questa spaventosa e temuta creatura, svelando uno dei più grandi segreti custoditi dagli oceani. Preparati per incontrare una delle creature più imponenti che abbia mai abitato la Terra, il Titanoboa. Questo serpente preistorico, vissuto circa 60 milioni di anni fa, è stato uno dei più grandi serpenti mai registrati nella storia del nostro pianeta. Il Titanoboa è stato scoperto grazie ai fossili trovati nella regione di La Guagira, in Colombia. Si stima che raggiungesse una lunghezza impressionante di 12 metri e un peso di oltre una tonnellata. Con un diametro che poteva raggiungere anche un metro, questo gigantesco serpente era una vera regina delle giungle preistoriche. La sua robusta anatomia, dotata di muscoli potenti, le permetteva di dominare il suo ambiente con facilità. Il suo cranio massiccio ospitava decine di denti curvati all'indietro, perfetti per afferrare e trattenere le sue prede. La sua mandibola elastica le consentiva di inghiottire interi animali, compresi coccodrilli e grandi mammiferi. Il Titanoboa abitava un mondo tropicale, ricco di fitte foreste e un clima caldo e umido. La sua adattamento all'ambiente le conferiva un vantaggio sugli altri animali, rendendola un predatore formidabile e l'apice della catena alimentare nel suo ecosistema. Gli studi paleontologici rivelano che il Titanoboa visse nel periodo del Paleocene, dopo l'estinzione dei dinosauri. Questa specie di serpente gigante è stata una delle sorprendenti adattamenti della fauna selvatica che cercava di riempire il vuoto ecologico lasciato dalle grandi creature estinte. La storia del Titanoboa ci ricorda l'incredibile diversità e grandezza delle forme di vita che hanno abitato il nostro pianeta nel corso dei tempi. La sua imponenza e la sua esistenza ci invitano a riflettere sulle meraviglie e i misteri che la natura può nascondere, ricordandoci sempre l'importanza di preservare la ricchezza della biodiversità ai nostri giorni. Preparati per immergerti nelle profondità del passato e incontrare il temuto e imponente megalodonte. Questa creatura preistorica, che dominava gli oceani milioni di anni fa, è conosciuta come una delle più grandi e potenti specie di squalo mai esistite. Il megalodonte ha abitato i mari tra 23 e 2,6 milioni di anni fa, durante l'era del Cenozaico. Era un predatore colossale, stimato fino a 18 metri di lunghezza, tre volte più grande degli squali bianchi più grandi che si trovano oggi. La sua mandibola gigantesca, con denti affilati e seghettati, era in grado di infliggere morsi potenti. La testa massiccia del megalodonte ospitava una bocca piena di denti estremamente grandi e robusti. Con circa 18 centimetri di lunghezza, questi denti erano progettati per perforare e strappare la carne delle sue prede, incluse grandi mammiferi marini come le balene. Il megalodonte abitava agli oceani di tutto il mondo, dalle acque basse alle profondità più oscure. La sua anatomia specializzata, compresi un'enorme struttura corporea, pinne potenti e una coda massiccia, gli conferiva una velocità impressionante per inseguire e catturare le sue prede. Attraverso gli studi paleontologici, la scoperta di denti fossili e scheletri parziali, abbiamo imparato di più sulla vita e il comportamento del megalodonte. Si crede che fosse un predatore agile e adattabile, in grado di cacciare con efficienza nelle vaste estensioni oceaniche che dominava. Il megalodonte rappresenta una figura impressionante e affascinante nella storia della vita marina. La sua esistenza ci ricorda delle incredibili creature che hanno vagato negli oceani nere passate, evocando un senso di meraviglia e rispetto per la natura. L'elicoprion è un genere estinto di pesce cartilagineo che visse durante il periodo del Permiano, circa 290 milioni di anni fa. È conosciuto per la sua caratteristica più distintiva, una dentatura unica a forma di spirale. L'elicoprion aveva un corpo simile a quello degli squali e di altri pesci cartilaginei, ma si differenziava per la sua mandibola superiore allungata. In questa mandibola si trovavano i denti a forma di spirale, che venivano retratti in una cavità a forma di conchiglie intorno alla bocca. Man mano che l'animale cresceva, nuovi denti venivano aggiunti alla base della spirale, mentre i denti più vecchi venivano continuamente spinti in avanti. Questa dentatura a spirale dell'elicoprion è stata oggetto di mistero e speculazione per molti anni. Inizialmente, gli scienziati credevano che i denti dell'elicoprion formassero una sorta di sega circolare di fronte alla sua bocca. Tuttavia, ricerche più recenti suggeriscono che la spirale di denti si trovasse all'interno della mandibola, funzionando come uno strumento di triturazione per catturare e processare le prede. La ricostruzione precisa dell'elicoprion è stata una sfida a causa della scarsità di fossili completi. Gran parte di ciò che sappiamo su questo pesce preistorico si basa sui reperti fossili delle sue mascelle e dei suoi denti. Questi fossili sono stati principalmente trovati in Nord America, Europa e Asia. Sebbene le dimensioni esatte dell'elicoprion siano incerte, si stima che alcuni individui potessero raggiungere una lunghezza di fino a 7 metri. Probabilmente erano predatori marini che si nutrivano di pesci e altri organismi marini catturati e triturati, dalla loro peculiare dentatura. L'elicoprion è una delle creature più affascinanti ed enigmatiche del remoto passato della Terra. La sua dentatura a spirale unica e le sue adattamenti evolutivi suscitano l'interesse dei paleontologi e degli appassionati di storia naturale in tutto il mondo. Lo studio dell'elicoprion ci aiuta a svelare i misteri della vita marina preistorica e a comprendere l'incredibile diversità delle forme di vita che hanno abitato il nostro pianeta nel corso dei tempi geologici. Lo Shastasaurus è un genere estinto di rettile marino che visse durante il periodo Triassico, circa 240-210 milioni di anni fa. Appartiene al gruppo degli Ittiosauri, rettili marini simili ai delfini adattati alla vita nell'oceano. Lo Shastasaurus è considerato uno degli Ittiosauri più grandi mai scoperti, con alcuni esemplari che raggiungevano impressionanti lunghezze fino a 20 metri. La sua forma corporea era simile a quella di altri Ittiosauri, con un corpo idrodinamico, pinne adattate al nuoto e una coda a forma di timone che lo aiutava a spostarsi efficientemente nell'acqua. Una delle caratteristiche più notevoli dello Shastasaurus era il suo cranio allungato e stretto, che ospitava una fila di denti affilati e ricurvi. Questi denti venivano utilizzati per catturare e trattenere prede come pesci e calamari, che costituivano la sua dieta. La sua mandibola aveva un'ampia apertura, permettendo allo Shastasaurus di catturare prede più grandi rispetto ad altri Ittiosauri. I fossili dello Shastasaurus sono stati principalmente rinvenuti in Nord America, nella regione della formazione Shasta, situata in California e Oregon. Questa zona era un ambiente marino poco profondo durante il periodo Triassico, dove lo Shastasaurus probabilmente nuotava e cacciava alla ricerca di cibo. La scoperta dello Shastasaurus ha fornito ai paleontologi preziose informazioni sulla diversità e sull'evoluzione degli Ittiosauri durante il Triassico. La sua imponente presenza negli antichi oceani ci aiuta a ricostruire gli ecosistemi marini del passato e a comprendere meglio la vita marina di quel periodo. Lo Shastasaurus è una creatura affascinante che ci mostra l'incredibile varietà di forme di vita che abitavano i mari della Terra milioni di anni fa. La sua adattamento all'ambiente marino, le sue dimensioni impressionanti e la sua mandibola specializzata per la cattura delle prede mettono in evidenza la complessità e la diversità della vita che esisteva in epoche passate. Lo studio dello Shastasaurus ci aiuta a esplorare e apprezzare la ricca storia della vita sul nostro pianeta. Il Bloop è un misterioso fenomeno sonoro registrato nelle profondità dell'oceano che ha intrigato scienziati ed appassionati dell'ignoto. È stato catturato da idrofoni sottomarini nel 1997 ed è considerato uno dei suoni più affascinanti mai registrati negli oceani. Il nome Bloop è stato dato a questo suono a causa della sua caratteristica apparenza nello spettrogramma, che mostra l'intensità e la frequenza del suono nel tempo. Il Bloop consiste in un impulso a bassa frequenza che inizia con un tono basso, aumenta gradualmente in intensità e poi diminuisce, durando approssimativamente un minuto. Una delle prime teorie suggeriva che il Bloop potesse essere prodotto da una creatura marina di proporzioni gigantesche, simile al leggendario mostro marino del folklore come il Kraken o il Leviatano. Tuttavia, analisi successive hanno escluso questa possibilità, perché la frequenza del suono era troppo bassa per essere generata da un animale di grandi dimensioni. La spiegazione scientifica più accettata è che il Bloop sia stato prodotto da un fenomeno naturale noto come Icequake, terremoto di ghiaccio. Questi terremoti si verificano quando grandi blocchi di ghiaccio si muovono e si spezzano nell'oceano, creando onde sonore che si propagano per lunghe distanze. Il suono grave e prolungato del Bloop può essere attribuito alla risonanza delle onde sonore indeterminate, condizioni ambientali. Nonostante questa spiegazione, il Bloop continua ad attirare l'interesse di alcuni, dando luogo a teorie del complotto e speculazioni sull'esistenza di creature marine sconosciute o eventi soprannaturali. Tuttavia, le prove scientifiche indicano un'origine naturale non correlata a misteriose creature marine. La registrazione del Bloop è un'affascinante promemoria della vastità e del mistero degli oceani. Nonostante tutti i progressi scientifici, ci sono ancora fenomeni inspiegabili che ci sfidano a comprendere appieno il funzionamento del mondo naturale. Il Bloop rimane un enigma sonoro intrigante e ci ricorda che c'è ancora molto da scoprire ed esplorare nei profondi e sconosciuti regni subacquei. Alla fine, esplorare le creature marine più spaventose registrate nelle profondità marine ci ha trasportato in un mondo di meraviglie e misteri. Dal maestoso megalodonte all'enigmatico Bloop, queste creature suscitano la nostra immaginazione e curiosità riguardo al vasto regno sottomarino. Conoscendo queste creature estinte e leggendarie, siamo ricordati della ricca diversità della vita che un tempo popolava gli oceani e del ruolo fondamentale che hanno svolto nella storia evolutiva del nostro pianeta. Questi esseri giganteschi e spaventosi hanno lasciato un'eredità a duratura, ispirando miti, leggende e la nostra comprensione della natura. Tuttavia, dobbiamo anche ricordare che il fondale marino continua ad essere un luogo di sorprendenti scoperte. Nuove specie vengono regolarmente scoperte e molte domande rimangono senza risposta. Lo studio dell'oceano profondo ci sfida ad esplorare di più, ad approfondire la nostra conoscenza e a preservare questo fragile ambiente. Riflettendo sulle creature marine più spaventose registrate nelle profondità marine, veniamo portati ad apprezzare la bellezza e la complessità della vita marina. Dobbiamo ricordare di rispettare e preservare questi ecosistemi, affinché le future generazioni possano anch'esse meravigliarsi della diversità e del mistero che l'oceano ci offre. Che questo viaggio nelle profondità marine ci ispiri a proteggere e valorizzare i tesori che incontriamo, così come a continuare ad esplorare i misteri e i segreti che ancora attendono di essere svelati nel mondo, misterioso e affascinante delle profondità marine.